La sentenza di secondo grado conferma l'impianto accusatorio del maxiprocesso della Bassavalle, ma ridimensiona alcune pene. Nel primo pomeriggio di oggi l'atteso verdetto della Corte d'Appello di Milano, che ha ridotto da nove anni e due mesi di pena inflitta in primo grado a sette anni e tre mesi, quella pronunciata oggi, la condanna per Silvano Passamonti, già presidente della comunità montana di Morbegno, accusato di concussione, peculato, falsità materiale commessa da pubblico ufficiale, assolta con la formula perché il fatto non costituisce reato, la libera professionista Simona Vitali, che a Sondrio aveva avuto tre anni e due mesi per concussione, quattro anni e otto mesi per Luca Spagnolatti, ex general manager di eventi valtellinesi, condannato in primo grado a quattro anni e dieci mesi per peculato e falso materiale, mentre inflitta oggi una pena di quattro anni e sette mesi, tre mesi in meno rispetto al primo grado, per Renzo Barona, già sindaco di Cercino, accusato di concussione. Infine pena ridimensionata anche per Salvatore Marra, ex direttore generale della comunità montana di Morbegno, ritenuto colpevole dei reati di concussione e falsità materiale, commessa da pubblico ufficiale, condannato oggi a quattro anni e due mesi, quattro mesi in meno rispetto alla prima sentenza pronunciata in tribunale a Sondrio.